Pitella chiama raccolta i suoi sudditi per spingere la sua ricandidatura a governatore. Se non fosse la degna conclusione di una farsa tutta interna al PD, si potrebbe parlare di un ultimo tentativo di distruggere la Basilicata. Così il consigliere Gianni Rosa commenta l'incontro tra il presidente Pitella e alcuni sindaci lucani. Per l'esponente politico, le prossime regionali non saranno semplici competizioni elettorali, ma sarà la scelta tra chi ha distrutto la Basilicata o ne è stato complice e chi si è sempre posto dalla parte del popolo. Rosa si dice convinto che l'unico modo per liberare la Basilicata da Pitella e dai suoi suddali sia un fronte compatto di uomini e donne libere. A parere del consigliere, il momento per i lucani per bene di schierarsi contro il sistema. Chiunque si sottragga ad un tale combito, dice, non farà altro che agevolare il centro-sinistra che ci ha distrutto e diventarne automaticamente complice. E' una scelta di campo definitiva tra il vecchio e il nuovo Chiosa Rosa, tra la distruzione della Basilicata e la sua rinascita.